Ecco uno schema alimentare che aiuta ad individuare gli alimenti che provocano gonfiore addominale e costipazione. Un approccio all'alimentazione che può rivelarsi molto utile per identificare intolleranze, sensibilità o allergie. La dieta eliminazione è un valido alleato per alleviare gonfiore e costipazione e consiste appunto nell'eliminare dalla propria tavola gli alimenti che si sospetta il corpo abbia difficoltà a tollerare. Successivamente si procede alla loro progressiva reintroduzione, prestando attenzione ai sintomi palesati a seguito dell'assunzione. La dieta ha una durata compresa tra le 5 e le 6 settimane ed è un ottimo aiuto per migliorare la qualità di vita di persone che soffrono, non in ultimo, di intestino irritabile. Lo schema prevede una prima fase di eliminazione che dura dalle 2 alle 3 settimane, tra i cibi da eliminare, soia e derivati, latticini, frutta a guscio, frutti di mare e glutine. E' questo uno step molto importante per capire se i sintomi fastidiosi sono causati dall'alimento rimosso. Arriva poi il momento di procedere alla progressiva reintroduzione dei cibi eliminati. Il consiglio è di reintegrare introducendo singolarmente ogni gruppo alimentare, prestando attenzione all'insorgenza di eruzioni cutanee, gonfiore addominale e problemi intestinali. In linea generale, più cibi si rimuovono, più è probabile raggiungere l'obiettivo. L'ideale, ad esempio, sarebbe eliminare temporaneamente anche agrumi, legumi e alimenti ricchi di amido. Inoltre, è opportuno evitare burro, margarina, zucchero, miele e sciroppo d'acero. La domanda sorge spontanea. Cosa includere allora nell'alimentazione? Sia frutta, ad eccezione degli agrumi, tisane, bevande sostitutive del latte vaccino, carne di tacchino e di agnello, selvaggina e pesci come il salmone. La scienza pare essere pro dieta a eliminazione. Tra i tanti studi a favore citiamo un lavoro di ricerca del 2006, condotto da un'equipa attiva presso la statunitense University of Kansas. Gli esperti hanno arruolato 20 individui con diagnosi di sindrome da intestino irritabile. Sottoposti alla dieta a eliminazione, hanno palesato miglioramenti decisamente significativi.